Ed Sheran accusato pensati di plagio per la canzone intitolata Shape of You. Il processo da tanti all'alta corte federale di Londra è iniziato già da qualche tempo e dovrebbe durare circa 21 giorni, tre settimane circa. A lanciare accusa due artisti, Sami e Ross, che avrebbero affermato che Ed avrebbe copiato diverse frasi e diverse parole della loro canzone, della loro stessa realizzata, quindi ci sarebbe il cosiddetto plagio. Plagio legato soprattutto al ritornello, secondo quello che viene riportato sul web, Shape of You è stata pubblicata nel 2017, la canzone è stata un successo a livello mondiale, è la canzone più ascoltata addirittura in streaming più recitamente su Spotify. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, vediamo quello che succederà in futuro e soprattutto se ci saranno eventuali novità oppure eventuali sviluppi a proposito della vicenda in questione. Iscrivetevi, commentate, vi ringrazio da Teandro è tutto e al prossimo video buona sera da voi.